Questo 2023 a livello di eventi apre la Piazza del Popolo con Young Art Festival, una novità dalle 17 a mezzanotte, poesia, danza e musica, tutto in un unico contenitore. La musica accompagnerà tutto l'evento a partire dalle poesie, poi ovviamente la scuola di danza dell'MDS Lab e 15, anzi 14 concerti e un DJ set, quindi sicuramente la musica è la prima cosa e sarà un evento fuori dal comune secondo me. Grazie al comune di Pesaro e grazie a Sound Logic Records vi aspettiamo il 7 gennaio dalle 17 alle 24, quindi a mezzanotte. Lavoro insieme a Filippo Santori e a Sound Logic Records abbiamo questa azienda che lavora a 360 gradi nell'ambito musicale e quindi all'interno delle nostre strutture gravitano un sacco di artisti e abbiamo ritenuto opportuno trovare un'idea di fare un evento da presentare al comune per dar spazio ai giovani di potersi esprimere in un luogo storico come la piazza della propria città. È sempre per me un piacere tornare qui in Piazza del Popolo a Pesaro in questo caso per presentare questo evento dedicato ai giovani e chissà magari scopriremo anche qualche nuovo talento da portare in giro anche per l'Italia perché insomma l'idea è quella appunto di valorizzare gli artisti del territorio come fa Sound Logic Records che appunto coordina questo evento a livello musicale e da Pesaro portarli in tutta Italia e quindi insomma questo è uno scambio interessante. Quindi saremo io e Marco Corona un collega speaker radiofonico a presentare l'evento e ci vediamo ci vediamo sabato 7 gennaio in Piazza del Popolo dalle 17. Sono eventi molto importanti che mi rendono molto soddisfatta e molto orgogliosa di questo percorso che è stato fatto durante questo anno perché moltissimi giovani, moltissimi ragazzi si sono interfacciati con me, mi hanno contattato, mi hanno cercato e mi hanno fatto delle proposte assolutamente interessanti e condivisibili per cui con grande entusiasmo ho accolto quelle che erano le loro proposte e questo non è il primo evento ma sicuramente l'evento conclusivo diciamo di queste feste natalizie e anche del percorso Città dei Giovani che è quasi arrivato agli sgoccioli, mancano ancora poco oramai e quindi un evento che dà spazio non solo alla musica ma anche all'arte, alla poesia, alla danza e quindi sicuramente un momento che può racchiudere un po' tutto quello che è il percorso artistico che è stato fatto finora.